Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo con il ciclismo, con il Giro d'Italia, dopo le mozioni della tappa tutta lucchese, con arriva a Viareggio, il Giro è ripartito dalla Versilia, da Camaiore, per fare rotta verso Tortona, ovvero verso il territorio dove più di cent'anni fa nacque il grande Fausto Coppi. Tappa nervosa e lunga, l'undecima del Giro d'Italia, con tre gran premi della montagna che si presta a qualche fuga da lontano, la frazione più lunga di una corsa rovinata dal maltempo e dal Covid. Si va da Camaiore a Tortona, ovvero nella terra del campionissimo Fausto Coppi, natio di Castellania, ritrova in piazza 24 maggio e partenza sotto un cielo imbronciato alle 11.50. Da subito via la classica fuga di giornata, promossa dal Belga Rex, con altri cinque attaccanti in cerca di gloria. Il gruppo lascia fare fino ad un vantaggio massimo di quattro minuti e mezzo, poi la track segafredo di Mats Pedersen si mette a tirare per limitare il distacco. È marcatura Duomo-Milan-Pedersen per la maglia ciclamino. Qualche caduta coinvolte Neus e Jumbo-Visma a sintetizzare questo Giro 2023 come un inno alla sfortuna. Ne fa le spese soprattutto Tauke-Gajanath, terzo in classifica generale e uno dei candidati alla vittoria finale. Per lui doloroso ritiro per un problema al bacino. Il gruppo in calze si avvicina negli ultimi chilometri. Resta lo stoico Rex, che però viene ripreso a meno 5. Chapeau al passistone belga. È volata che Quartermann prova ad evitare. Nulla da fare. Milan resta imbottigliato e deve fare una sorta di doppia volata. Ne approfitta il tedescone della UE, Pascal Ackermann, che vince sul traguardo di Tortona nel nome e nel ricordo del campionissimo Fausto Coppi. Thomas conserva la maglia rosa davanti a Roglic. Passiamo al calcio. L'amministratore delegato della Lucchese, braccio destro del nuovo proprietario Andrea Bulgarella, sarà il graditissimo ospite della 34esima ed ultima puntata stagionale di Curva Ovest. In onda giovedì sera a partire dalle 21.15 per intervenire e come sempre porre le vostre domande 360 10 38 330. Saranno davvero tanti gli argomenti che affronteremo, da quelli tecnici e di mercato, a quelli economico-finanziari, fino alla vicenda dello stadio e al rilancio in grande stile di una piazza importante dal punto di vista calcistico e non solo come Lucca. Nulla da fare per Lorenzo Musetti agli internazionali di tennis di Roma negli ottavi di finale. Il 21enne di Carrara si è battuto bene ma alla fine ha dovuto cedere in due set 7-5, 7-5 al forte giocatore greco Stefanos Sissipas, testa di serie numero 5 del torneo. Ancora un titolo nazionale per la Raffaello Motto Viareggio a Sarnano, la provincia di Macerata. La squadra Viareggina si è laureata campione d'Italia a squadre di ginnastica ritmica nella categoria lieve Gold 2. La formazione era composta, le vediamo in questa foto, da Camilla Musacci, Melissa Musacci ed Emili Puccinelli. Questo titolo giunge ad appena due settimane dal secondo posto della prima squadra in serie A1. Parliamo di motori. Dunque Rudy Michelini si rimette in gioco in questo secondo scorcio del 2023. Vediamo come. Rudy Michelini è pronto per una nuova e stimolante sfida. Il pilota lucchese ha infatti confermato la propria presenza sulle prove speciali di International Rally Cup al volante di una vettura mai utilizzata in precedenza, la Citroen C3 Rally 2. Con il supporto tecnico del team PA Racing, il driver di Movisport si presenterà alla partenza del rally internazionale del Taro, in programma nell'ultimo fine settimana di maggio, affiancato da Nicola Angilletta, copilota con il quale ha collaborato nel corso della stagione 2013-2014. Sarà l'occasione per misurarsi al volante di una nuova vettura mai utilizzata prima d'ora, il commento di Michelini, in un campionato di ottimo livello come International Rally Cup. Sono convinto che potremo far bene, pur avendo già usufruito dello scarto a disposizione, ci giocheremo tutto nei tre appuntamenti in programma. La Citroen C3 Rally 2 è una vettura che ha sempre stimolato la mia fantasia, non vedo l'ora di provarla. Ringrazio i miei partner, ha chiosato il pilota lucchese, per questa bella opportunità. I tre restanti appuntamenti di International Rally Cup coinvergeranno dunque Rudy Michelini sulle prove speciali, come già detto, del rally internazionale del Taro, 27 e 28 maggio, poi del rally internazionale del Casentino, 7 e 8 luglio, e a chiudere il rally città di Schio, in programma il 17 e 18 novembre. Chiudiamo con il batti e corri, sfuma la possibilità di giocare per la squadra delle nuove Panthere nel campionato di A2 di softball, trasferta a vuoto a Rovigo e partita rinviata per le ragazze di aereo Raffaele Bosi a causa del maltempo che ormai da diversi giorni imperversa un po' su tutta Italia. Ha giocato invece la squadra di Serie C delle nuove Panthere nel baseball, la squadra di Amari Suarez era di scena nel derby casalingo a Lucca contro i Drakes di Capannori, fino al nono inning le nuove Panthere hanno dominato, si sono portate sul 10-1, poi un rilassamento finale, molti cambi, punteggio finale, comunque visto vittorioso le nuove Panthere col punteggio di 10-6. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa e poi il telegiornale come sempre prosegue con la terza ed ultima parte.